Le equazioni, in generale, sono uguaglianze tra espressioni letterali in cui si cercano i valori che, sostituiti al posto delle incognite presenti, rendono l'uguaglianza vera. In particolare, un'equazione di primo grado intera ad un'incognita è un'uguaglianza tra due espressioni letterali rappresentate da due polinomi di primo grado ad una sola lettera. Oppure, come nel caso dell'esercizio 1, i due membri possono essere rappresentati da due espressioni algebliche letterali intere, riducibili comunque a due polinomi di primo grado in una sola lettera. In tal caso, se esiste, si chiama soluzione dell'equazione quel valore che, sostituito in ogni punto in cui appare la lettera che viene chiamata incognita, rende l'uguaglianza vera. Se la soluzione esiste, l'equazione viene chiamata equazione determinata. Per trovare la soluzione eventuale di tale equazione, dobbiamo procedere con una serie di passaggi legati in particolare a due principi chiamati principi di equivalenza. Prima di applicare però i due principi di equivalenza, è necessario togliere con mezzi leciti tutte le parentesi e tutte le frazioni che possono apparire al primo o al secondo membro dell'equazione, ossia rispettivamente a sinistra o a destra dell'uguale. Nell'esercizio proposto è presente all'interno del primo membro una parentesi tonda che contiene un binomio che deve essere moltiplicato a un termine noto pari a 2. Quindi, svolgiamo innanzitutto questo calcolo, dopodiché passeremo all'analisi dei passaggi che richiedono l'utilizzo dei due principi di equivalenza. Trattandosi del prodotto di un termine noto con un binomio, basta moltiplicare il termine 2 prima per x e poi per 3, conservando chiaramente i segni che troviamo all'interno della parentesi. Dopo aver effettuato questo calcolo e dopo avervi scritto i termini mancanti dell'equazione, possiamo applicare quello che viene chiamato primo principio di equivalenza, secondo cui sommando o sottraendo al primo e al secondo membro di un'equazione una stessa quantità non viene alterato il senso dell'uguaglianza. In parole povere, se a due cose tra virgolette uguali sommiamo o sottraiamo tra virgolette cose uguali, otterremo sempre tra virgolette cose uguali. E' importante sottolineare che il primo principio di equivalenza ci permetterà di spostare in determinate condizioni dei termini dal primo al secondo membro o viceversa. In questo modo saremo in grado di raccogliere al primo membro, quindi a sinistra dell'uguale, tutti i termini legati all'incognita x, mentre tutti gli altri termini, quindi i termini noti, potranno essere spostati a destra dell'uguale, quindi al secondo membro. Attraverso questa operazione e una volta ottenuto questo obiettivo, potremmo risolvere agevolmente la nostra equazione. Tuttavia, per comprendere in pieno come applicare il primo principio di equivalenza, ci limiteremo in questa fase all'applicazione di tale principio solo al termine 6x per spostarlo dal secondo al primo membro. Dopodiché, applicheremo il primo principio a tutti i termini che dovranno essere spostati dal primo al secondo membro o viceversa, rispettando l'idea che tutti i termini all'incognita x dovranno apparire al primo membro e che tutti i termini noti dovranno apparire al secondo membro. A tal proposito, abbiamo sottratto al primo e al secondo membro la quantità 6x, quindi al primo membro è appasso il termine meno 6x, così come appasso al secondo membro. A questo punto, a destra dell'uguale, possiamo semplificare i due termini 6x e meno 6x. Quindi abbiamo ottenuto lo spostamento del termine 6x che si trovava a destra dell'uguale, a sinistra ma col segno cambiato. Quindi possiamo affermare che il primo principio di equivalenza equivale alla possibilità di poter spostare da sinistra a destra dell'uguale o viceversa dei termini appartenenti a somme algebliche, quindi dobbiamo essere sicuri che non ci siano moltiplicazioni o altre operazioni tra i monomi che compongono i due membri, semplicemente cambiando il loro segno. In particolare nel quarto passaggio proposto, abbiamo già provveduto allo spostamento del termine meno 6 dal primo al secondo membro cambiando il segno. Quindi, visto che abbiamo ottenuto tutti i termini nell'incognita x al primo membro e tutti i termini noti al secondo membro, possiamo sommare i termini al primo membro e i termini al secondo membro ottenendo l'espressione meno x uguale ad 8. La ricerca della soluzione, tuttavia, richiede un altro passaggio. Perché? Abbiamo la necessità di isolare solamente la x con un coefficiente pari a 1. In questo caso meno x sottintende il fatto che la x ha come coefficiente meno 1. Come facciamo a spostare o eliminare questo coefficiente diverso da 1 attraverso mezzi deciti e qui che interviene il secondo principio di equivalenza. Secondo cui possiamo moltiplicare o dividere i due membri di un'equazione, nel caso della divisione per quantità diverse da zero, senza alterare il senso dell'uguaglianza. In parole povere possiamo raddoppiare, triplicare o quadruplicare cose uguali, così come possiamo dimezzare o prendere la terza parte di cose uguali, ottenendo, tra virgolette, sempre cose uguali. Come possiamo applicare il secondo principio di equivalenza? Possiamo moltiplicare per meno 1 in tanti membri. Quindi, operando l'ultimo passaggio, si ottiene che x è uguale a meno 8, che è la soluzione della nostra equazione. Potete verificare che il valore meno 8 è soluzione dell'equazione, che quindi è determinata, sostituendolo in qualsiasi passaggio svolto e osservando che a sinistra e a destra dell'uguale si ottengono quantità numeriche uguali, ossia quella che in matematica viene chiamata identità. L'esercizio numero 2 propone la risoluzione di un'equazione intera di primo grado in un'incognita, in cui appaiono non solo delle espressioni contenenti delle parentesi tonde, ma anche una serie di frazioni. La presenza di tali numeri razionali nei coefficienti e nei termini noti di un'equazione non deve confonderci. Siamo sempre in presenza di un'equazione intera. Infatti, le equazioni fratte esistono, ma prevedono la presenza di espressioni letterali anche nei denominatori. Nel caso in cui, invece, le espressioni al primo e al secondo membro sono riconducibili a dei polinomi, parleremo semplicemente di polinomi a coefficienti razionali. Passando quindi alla risoluzione dell'esercizio proposto, in tal caso il nostro suggerimento è di operare come segue. Innanzitutto eliminare con mezzi leciti tutte le parentesi presenti. In questo caso, di espressioni contenenti termini tra parentesi tonde, tra primo e secondo membro ce ne sono due, rappresentate da due prodotti tra un termine noto e un binomio, sia nel primo che nel secondo caso. Dopodiché dobbiamo cercare di eliminare, sempre con metodi matematicamente sostenibili, quindi con operazioni che risultino valide, tutti i denominatori presenti al primo e al secondo membro. Da quel punto in poi, attraverso l'utilizzo dei due principi di equivalenza, come abbiamo già visto nell'esercizio numero 1, potremo isolare al primo membro tutti i termini nell'incognita x, mentre al secondo membro potremo isolare tutti i termini noti. Così facendo, potremo, in pochi passaggi, cercare ed eventualmente trovare l'eventuale soluzione dell'equazione. Quindi possiamo cominciare a risolvere tale equazione. Siete pronti? Allora, dopo aver svolto le due moltiplicazioni presenti nel primo e nel secondo membro dell'equazione e che ci hanno permesso di eliminare, con operazioni validissime, le due parentesi tonde presenti nel testo, ci ritroviamo a questo punto con il problema, a cui abbiamo già accennato poco fa, di ridurre con operazioni corrette i denominatori presenti. A tal proposito interviene il secondo principio di equivalenza, per la cui applicazione, tuttavia, serve un passaggio per eliminare. È necessario ridurre sia il termine a sinistra e l'uguale, quindi il primo membro, che il secondo membro, a destra e l'uguale, a due frazioni con lo stesso denominatore, il che è sempre possibile. Infatti, basta calcolare il minimo comune multiplo tra tutti i denominatori in gioco, in tal caso il minimo comune multiplo tra 3, 4 e 5, che equivale a 60, e considerarlo come denominatore del primo e del secondo membro. In pratica, dobbiamo sommare algebricamente tra loro i termini del primo membro e successivamente i termini del secondo membro, riducendoli allo stesso denominatore. Quindi, per quanto riguarda il primo membro, l'operazione da fare è la seguente. Visto che 2 è un coefficiente intero, si può sottintendere come denominatore 1, quindi 60 diviso 1 fa 60, che per 2x equivale a 120x, meno 60 diviso 3 che fa 20, 20 per 2 invece equivale a 40, più 60 ancora una volta diviso 1 che fa 60, moltiplicato per 3x che è come risultato da 180x, meno 60 diviso 1, che è sempre sottinteso al denominatore che fa 60, tale risultato moltiplicato per 1 da ancora 60. Procedendo in maniera analoga anche per il secondo membro, otterremo invece la seguente espressione. A questo punto possiamo applicare il secondo principio di equivalenza, secondo cui possiamo moltiplicare a sinistra e a destra dell'uguale per una stessa quantità. Per questo motivo possiamo moltiplicare per 60 a sinistra e a destra dell'uguale e quindi semplificare al primo membro in croce 60 e 60, così come possiamo farlo anche al secondo membro. A questo punto possiamo spostare, come abbiamo fatto nell'esercizio 1, tutti i termini all'inconita x dal secondo al primo membro, cambiando il segno, e tutti i termini noti dal primo al secondo membro, sempre cambiando il loro segno, ottenendo quanto segue. A questo punto focalizziamo l'attenzione sull'ultimo passaggio proposto, che andremo a zoomare. Esistono giovani avventurieri che, di fronte a un'equazione di questo tipo, cercano di ricavare il valore della x, quindi una possibile soluzione di questa equazione, attraverso questo tipo di operazione. Una accattivante divisione per 0 sia al primo che al secondo membro, seguita da una semplificazione al primo membro dei due 0 al numeratore e al denominatore. È un'operazione possibile? Assolutamente no! In matematica non è possibile dividere un numero per 0. Provate, ad esempio, ad effettuare la divisione tra 163 e 0. Dovresti trovare un numero che, moltiplicato per 0, dia come risultato 163. Ed è un'operazione impossibile. Quindi, torniamo all'espressione precedente e non proviamo assolutamente a dividere per 0, perché è un'operazione assolutamente inammissibile. E proviamo a riflettere. Visto che la nostra incognita x può assumere qualsiasi valore reale, il suo prodotto per 0 darà come risultato 0. Quindi è lecito riscrivere questa equazione come segue. L'uguaglianza 0 uguale a 163 è falsa, in quanto le due quantità numeriche sono diverse. Tuttavia, se ci pensiamo un attimo, la possibile o le possibili soluzioni di un'equazione sono quei valori reali che, sostituiti al posto dell'incognita, in questo caso al posto della x, rendono tale uguaglianza vera, ossia un'identità. Nel nostro caso, qualsiasi valore reale sostituito alla x dovrà essere moltificato per 0. E, quindi, in ogni possibile caso, verrà comunque fuori un'uguaglianza falsa. Quindi, da quest'ultimo passaggio, possiamo concludere che l'equazione non può avere alcuna soluzione ed è per questo che equazioni di questo tipo vengono chiamate equazioni impossibili. E quindi, in questo caso, l'equazione non è determinata. È chiaro?